Cervello, cuore e mano sono i tre elementi più importanti e se si riesce veramente ad aiutare questi tre elementi allora si riesce a fare anche la bellezza. La bellezza salverà l'anima dell'uomo. Ne è convinto Sandro Arduini, maestro d'arte aquilano, che con la mostra ospitata a Palazzo dell'emiciclo fino al 15 maggio intende omaggiare la sua città, l'Aquila, dove torna ad esporre per la prima volta dopo il terremoto. Una collezione di dipinti, ceramiche e sculture riunite sotto il titolo di una modernizzante figurazione neorinascimentale. E lo stesso Arduini ha sciogliere l'enigma di questa denominazione. Neorinascimentale perché non solamente per i soggetti che sono abbastanza figurativi, ma nello stesso tempo rinascimentali e moderni. Ma anche perché neorinascimentali perché purtroppo il terremoto mi ha costretto a cambiare dimensione dei quadri, a lavorare in zone molto più ristrette, molto più piccole. E allora mi sono divertito a fare un po' l'artigiano delle vecchie botteghe, per cui ho recuperato la cultura della ceramica, del piatto, del basso rilievo, dello stiacciato donatelliano, che è stato sempre un fascino per me, la scultura piccola e poi i quadri che sono stati esposti qui. Per cui ho recuperato un po' un senso della bottega. Il mestru Arduini si fa infine promotore di una rinascita culturale della città che passa anche dalla fruizione di spazi dedicati all'arte e ne indica tre in particolare. Uno è il nostro meraviglioso castello che spero che fra un po' si rimetta su. Secondo è questo spazio e terzo anche questo spazio molto bello, meno male concepito così, solamente per collocare quadri senza appendere niente, collocare quadri e far vedere i quadri. E poi il terzo spazio molto bello è San Domenico. Due cortili di San Domenico che sono favolosi. Sono un cortile sull'altro, si accede tramite una gradinata nella parte alta e nella parte alta ci sono delle vetrate stupende che danno proprio sulla città. E fare delle mostre lì in quel contesto penso che sia il massimo che si possa realizzare. Molto bello, è un spazio molto bello.